Giornata di voto oggi in Abruzzo per le elezioni provinciali. Si vota per l'elezione del Presidente e il rinnovo del Consiglio provinciale all'Aquila a Pescara e Chieti, mentre a Teramo solo per il rinnovo del Consiglio. All'Aquila si sfidano Angelo Caruso, Presidente uscente e Sindaco di Castel di Sangro, per il centrodestra e il Sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, per il centrosinistra. Sarà rinnovato anche il Consiglio, composto da dieci membri. Urne aperte dalle otto alle venti nella sede della provincia dell'Aquila in via Montecagno, con lo spoglio che partirà subito dopo. 1.258 sono gli aventi diritto, votano i sindaci e i consiglieri dei 108 comuni della provincia. I comuni che partecipano alla consultazione elettorale sono divisi in fasce. Per esempio, la E dell'Aquila-Vizzano prevede che il voto di un singolo consigliere vale 630 voti, e così via. Caruso, che dovrebbe essere il favorito, viene appoggiato da due liste, provincia insieme per la provincia dell'Aquila, mentre Giovagnorio da una, provincia in Europa. Anche a Pescara si elegge il Presidente e si rinnova il Consiglio. Qui si sfidano due candidati, Ottavio De Martinis, Sindaco di Montesilvano della Lega, che corre per il centrodestra e che potrebbe contare sul sostegno del Polo Civico Futura, rimasto senza candidato presidente, e Alessandro D'Ascanio, Sindaco di Roccamorice, schierato per il centrosinistra. De Martinis sembra avere la vittoria in tasca, proprio per gli equilibri territoriali, in quanto i comuni più grandi sono amministrati dal centrodestra e voto e preferenze sono ponderate in base a residenti. Gli elettori sono 589, in Consiglio entrano 12 eletti su 47 candidati. Quattro liste sono del centrodestra, uno del centrosinistra. A Chieti ci sono 1.253 elettori, qui la competizione tra Francesco Menna, Sindaco di Vasto, che sembra essere il favorito e che corre per il centrosinistra, che sulla carta ha più possibilità di vittoria, e Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano, candidato del centrodestra. Menna, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che per la prima volta Vasto e il Bastese potranno arrivare alla presidenza della provincia. Le liste a sostegno del centrosinistra sono due, anche per il centrodestra. Qui lo scrutinio ci sarà domani. Caso a parte quello di Teramo. Qui si vota solo per il rinnovo del Consiglio provinciale, perché il mandato del presidente di centrodestra, Diego Di Bonaventura, scadrà tra un anno. Qui ci sono tre liste che competono, due di centrodestra e una che vede uniti invece il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle.